L'Abruzzo si è svegliato con ancora più di 80.000 utenze elettriche non funzionanti dopo l'intervento dell'esercito per cercare di liberare località sommerse dalla neve si continua a lavorare per ripristinare la fornitura elettrica che tiene in alcuni casi al buio intere aree da due giorni e i disagi aumentano contando la mancanza di riscaldamento e i collegamenti con l'esterno. Stiamo tenendo sotto guardiania le situazioni più critiche a partire dai fiumi ma adesso vado a concentrarmi con il riferimento del MIT, del Ministero delle Infrastrutture per quanto riguarda la condizione dei due grandi invasi di Campotosto e di Chiauci. Abbiamo ancora un problema riguardante le utenze elettriche, mancano all'appello 87.000 utenze sperando che non siano di nuovo aumentate alla luce di queste ultime precipitazioni. Stiamo coordinando anche l'assegnazione di gruppi elettrogeni perché ci sono molte frazioni e ancora alcuni comuni delle montagne abruzzesi che non hanno la fornitura e provvediamo con l'emergenza e per l'emergenza con i gruppi elettrogeni. Finita l'emergenza si penserà anche a capire le responsabilità per quanto riguarda soprattutto la corrente elettrica e tutto quello che è stata l'assenza di un servizio fondamentale? Di sicuro faremo valere le ragioni della carta dei servizi di Enel che dà luogo al risarcimento quando è interrotto questo servizio fondamentale. Nel 2015 cacciarono 27 milioni di euro, adesso credo che siamo abbondantemente oltre.